Signori eccoci qua ritornati sulle gare di gta 5 online siamo qui in questo sesto Episodio siamo ritornati con arti clan e un umbio e stiamo per partire con sta gara Multiveicolo allora tutti con la stessa auto Hanno un umbio roll e Che stai facendo arti che stai scaldando le gomme zig zag no Sto scaldando qualcos'altro il cazzo No 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 guarda un umbio zitto zitto che va avanti come cazzo fa un umbio guardalo No arti no no ecco bravo un umbio da contratto da contratto non c'è scritto che tu devi vincere Ah c'è l'elicottero a posto ok ok fino a qui è semplice sembra semplice sembra perché nulla è semplice Ok è simile Quella di prima molto simile ok Come fai andare così però c'è spiegami sta roba Eeeh trick e track ma che volevi fare Eh che volevi fare ti volevo fare questo passare io me ne vado sul tubo Oh hola Uuu quanto l'adoro questa Qui è ancora lunga la cosa con sto cazzo di helicopter Ah lui c'ha un jet addirittura Eh Ah ma è invertita io adesso c'ho il jet E' tipo strano Oh adesso io c'ho l'oppressor mk1 Anch'io Weeeh si la pressa I'm back Grin vieni qua Di dire una cosa ho all'orecchio No no non la voglio sapere la cosa ho all'orecchio Sei sicuro? Si Mangia la mia polvere Sicuro sicuro? Hihihi Ho fatto dieci sorpassi raga voglio un premio Nooo Poverina Che ti ha fatto Ha anche lei dei sentimenti La manovra pitte la fai Al tuo cane Vedi karma Si chiama karma Io facevo lo sbirro su gtrp Le so fare le manovre pitte E le so tenere Sento una pressione caggiosa sotto di me Ed è un piccolo lan selvatico che mi passa Eh 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 Cosa ti ridi signor lan Adesso in questo tubo le faccio vedere chi comanda Cosa si Oh cristo gesù Io adesso provo a prendere l'altra direzione Che ho preso Rispetto a quella che ho preso prima No 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 Che dire Con l'unico hai ancora possibilità di recuperare Ho fatto un salvataggio estremo Ma uno di quegli estremi Ma estremi Che neanche Un pilota Professionale Che guida da 200 anni gli aerei Riuscirebbe mai a fare Professionale 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 Prosciuttonale Abbiamo Abbiamo degli ospiti Dimenti che sono ospiti Amusivi però sono ospiti E dai Siamo uno a livello 15 Uno a livello 16 Su Sono piccolini Sono piccini Cosa potrà mai accadere? Perché La sento tanto come un chip Come dice un undio Cosa potrà mai accadere? 3 2 2 1 Vamos Niente Ho missato il colpo preciso È un giro Giustamente è un po' lunghina Salve Arctic Come sta? Apri tutte le porte Mamma mia Oh Questa mi piace Questa mi piace Quello stile caggioso Che mi piace Ti vengo a prendere Grimm Ah sei tu No quello sei È un umpio Dove sei tu Arctic? Dietro il tuo bel culetto No quello è il culetto di un umpio Oh l'idra Attenzione Attenzione Il caccia Bello caggioso il caccia Come? Non non andrà così fra delle Comunque abbiamo detto che sarà mai che sti due tipi Gli vado tosse e esplodo io e non lui Ma c'è l'elicozzi C'è l'elicozzi L'aereo Il caccia Il jet L'elicoptero Sì il jet Qua il jet è andato Per i fatti suoi Eh vabbè capita Che è dietro? Ah lan Abbiamo le auto molto simili E lo passa Attenzione Grimm fa un sorpasso alla Michael Schumacher Proprio levati dal cabo E cerca di speronarmi Di sabotarmi un umpio Ma va male per lui stesso Karma Riuscirete a farle E niente L'abusivo vince la gara Signori Siamo qui Per compassione aspetto il signor Ah no è un altro abusivo Non l'aspetto Sì E finisce questa qui Questa gara finisce qui Eh Attima gara Prima due gare Non sono andate per nulla male C'è tubi 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 Veramente C'è dei tubi Dentro dei tubi Eh scubi 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 dubi Due giri Come no Aspetta c'è un problema Però capi Perché se non c'è collisione Porchi budani No no bo No no collision No No collision No boni Sapevo che dovevo fare un giro No altri aeri Basta aeri Mamma mia Bagniamo gli aerei da gta Ormai uno Scubi dubi du Peccato non ci siano le collisioni Eh Se no chissà quello che succedeva Oh che gli ha preso Che gli ha preso Porchi put Eh guarda quanti tubi Ho il muso storto Come ve lo spiego Dove sono andato a finire io Aiuto ragazzi Mi son perso Ok ok Preso il checkpoint Oh oh una moto Attenzione si Eccola San Gennaro Bella caggiosa Dovevo andare con lo stop pressor Eh ma no Sulla strana Sulla strana Pensavo di volare Non so Vabbè strana Oh Eccoci qui In seconda posizione Stava vista No lezzo Eh guarda Guarda Come ne approfitta Subito Il lezzo Grim Lan No no Non ne voglio sapere nulla Non compro Ho Enel Ti schiaccio un po' Sei Sei diventato uovo In sei giorni No no tranquillo Ho Enel Hai Enel? Si E quindi E quindi non la voglio La corrente Guarda un po' Come me la faccio La corrente Io Guarda 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 che roba Merda Non gira Eh beh Aiuto Questo è perché non hai scelto Uovo sodo Volevo condividere con voi Che dopo tre anni La prima volta Che sto recando Alle undici C'è sempre una prima volta C'è sempre una prima volta Green plus Ah raga Lì vi state duellando Il primo posto O sbaglio Eh si Oh cazzo No Ho preso il palo No no Ma dove sta andando L'oppressor Oh Si si Tipo Va tutta Vabbè io non parlo No 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 Mi sono fatto passare da un umbio E vi aspetto Mi sono fatto passare da un umbio Sta roba non l'accetto Io sono uovo E vi aspetto E io no Oh 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 Non va Non funziona Si è rotta l'oppressor L'ho comprato su wish forse Io non sono uovo E io non aspetto E tu sei Anche perché ci sono caduto sopra Sono arrivato terzo signori Mi va benissimo Bam signori Bam 11.000 dollaroni Spero che questo video vi sia piaciuto Vi ringrazio per la visione Vi invito a iscrivervi al canale Se ancora lo avete fatto E di seguirmi su Ti vedo La risorsa Quella che trovate qui sotto In descrizione Ho perso pure 1000 dollari Mannaggia te L'anno Io non scommersi Ne ho persi 2000 E nulla Da me Da Lann Da Artic Cavindo clamorosamente E da un umbio Che è sempre quarto Però ringraziamo un umbio Per la sua presenza È tutto E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao 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 ciao